Andremo al supermercato. Carla e i bambini rientrarono a casa dopo il funerale e il più grande, che fino allora non aveva aperto bocca, domandò, cosa faremo ora mamma? Carla, eludendo il vero significato della domanda, rispose con tono spiccio, andremo al supermercato a fare la spesa, tua nonna mi ha dato i soldi. Carla già sapeva che la vita è brutta e che adesso doveva tenersi salda per crescere da sola i figli. Scossa il capo, quel pensiero era complesso e delicato per il suo futuro di vedova e di madre. Dopo il funerale la sua vita doveva funzionare alla perfezione, come un orologio. Ricordava che col marito aveva percorso 15 anni della sua vita, quando la figlia più piccola le chiese, mamma, quando mi porti a lezione di pianoforte? Passò qualche secondo prima che Carla rispondesse, quando avremo i soldi per pagare. La sua funzione doveva agire dove tutto si concatenava, altrimenti non avrebbe portato avanti la famiglia. Si chiese, che cosa devo fare adesso? Si rispose istantaneamente, quello che facevo insieme a mio marito, portare me e i nostri figli ad evolvere. E quando la sua mente divenne più trasparente alla coscienza, si disse, anche la morte di mio marito ci è servita per evolvere.